Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'ora ci andiamo a fare la recensione finale della iNew V7 come vedete qui sotto, un interessante dispositivo con uno spessore soprattutto molto contenuto, compatto, direi anche con delle buone finiture estetiche tra plastica e alluminio. Un prodotto con un display da 5 pollici, diagonale, HD quindi 1280x720 pixel, Android KitKat, processore Mediatek, MTK6582 quadrucota 1.3 GHz con il dual sim, quindi direi il classico processore con dual sim, una sim in formato micro, una in formato standard, connettività 3G e 2 GB di RAM, questo è una cosa molto importante, quindi il classico Mediatek però in questo caso viene appinato a 2 GB di RAM. Poi fotocamera posteriore di Sony da 16 megapixel come possiamo vedere poi con il flash LED e lo speaker, SEM nella parte posteriore e il logo iNew. Davanti invece 2 megapixel, la fotocamera per i selfie, devo dire fotocamera non particolarmente performante per quanto riguarda i selfie, ve l'anticipo già. Poi Bluetooth, Wi-Fi, GPS e peso di 128 grammi, batteria rimovibile da 2100 mAh. Bene, direi quindi a questo punto di partire direttamente a fare una chiamata, una sim Vodafone, quindi chiamata al 190, le due sim funzionano bene e c'è anche la ricerca rapida in rubrica e la possibilità di preimpostare se chiamare con sim 1 o sim 2, stessa cosa per i messaggi e internet oppure se chiedere ogni volta. Per la telefonia mobile e internet con smartphone, chiavetta e tablet, digita 1. Per la telefonia fixa e ADSL, digita 2. Bene, come avete potuto vedere il suono non si va a bloccare nonostante vada a appoggiare il telefono sul tavolo e quindi questo l'ho trovato una cosa molto positiva. Per quanto riguarda invece la musica, sentiamoci una canzone e poi facciamo un resoconto generale sull'audio. Allora, una potenza che sinceramente mi convince poco. però comunque il telefono con il fatto che non va a bloccarsi il suono quando si è in via voce o si è a sentire una musica è una cosa positiva. È una media qualità, non potentissima, ma alla fine niente male. Direi a questo punto di continuare a parlare di parte telefonica. Andiamo un po' nella sezione messaggi e andiamo a scrivere un messaggio così vediamo un po' anche come si comporta la tastiera. Direi che la tastiera si comporta discretamente bene, la risposta al touch è buona, si può scrivere anche direi abbastanza velocemente sul dispositivo, quindi mi sembra tutto bene da questo punto di vista. Insomma, parte telefonica che tutto sommato è buona, anche in capsule auricolare è buona, la ricezione wifi e delle due sim mi è sembrata abbastanza buona. Mi sto accorgendo che il wifi non è attivo, lo attiviamo subito. Direi che sostanzialmente il telefono a questo punto di vista si comporta abbastanza bene. Forse, come dire, sul wifi la ricezione è buona ma magari l'antena non è potentissima e non sempre magari in punti dove altri telefoni mi hanno preso questo ha preso. Ma c'è solo un problema di distanza, non di compatibilità perché da quel punto di vista appena ci si avvicina leggermente di più alla fonte che ci dà appunto il wifi, non c'è nessun tipo di problema da questo punto di vista. Bene, già che stiamo parlando un po' di ricezione parliamo anche di GPS, così ci togliamo un attimino il dente anche per quanto riguarda il GPS, andiamo a prendere un po' il GPS status. Nel frattempo vi parlo anche di batteria, batteria che vi ho detto essere da 2100 mAh. per ora. Allora, cosa dire di questa batteria? Beh, una batteria devo dire che tutto sommato è nella media degli smartphone, ovvero riusciamo ad arrivare fino a sera con un utilizzo medio del prodotto senza grossi problemi con i dati o il wifi acceso. Quindi alla fine tutto sommato direi che è un'autonomia discreta, darei un 7,5-8 all'autonomia di questo smartphone. Per quanto riguarda il GPS fuori casa è molto più fulmino, dentro casa fa un pochino più di fatica, ma per quanto riguarda fuori devo dire che lo smartphone si comporta molto bene, quindi direi di chiudere qui la nostra prova. Per quanto riguarda invece AnTuTu raggiungiamo 18800 punti, non sono tanti, anzi direi che sono pochini, ma in realtà questo è un risultato un po' come dire non rispondente alla realtà, perché lo smartphone è abbastanza fluido e soprattutto con i 2GB di RAM permette anche un discreto multitasking, quindi un AnTuTu questa volta forse ci inganna un pochettino. Bene, stiamo parlando di software, continuiamo a parlare di software. Come vedete l'azienda cinese va a rinnovare un po' le icone generali che sono presenti sul dispositivo, va a inserire alcune applicazioni, quali cose da fare, download, email che funzionano bene, il file manager, flashlight, appunto la torcia, la fotocamera e la galleria. Allora, vediamo prima di attaccare una chiavetta, prima di andare a parlare di fotocamera, vediamo un po' come si comporta con le chiavette collegate. Nel frattempo che ho collegato la chiavetta, vi dico anche qualche altra applicazione presente, ma direi che le ho quasi finite, volevo solo farvi notare che c'è la registrazione musicale, un'applicazione per i video e soprattutto la radio FM. Come vedete invece la chiavetta non viene assolutamente letta. Allora, a questo punto possiamo entrare in fotocamera, eccoci qua. Fotocamera che ha un'interfaccia soft, devo dire, tutto simile a quella dei Mediatek, anzi è proprio lei, non ci sono particolari differenze. Qui le cose classiche che vediamo sui processori Mediatek, quindi direi che è la classica fotocamera dei processori Mediatek, non ci sono grandi differenze. Andiamo a vedere un po' come si comporta il dispositivo. Beh, devo dire, questa fotocamera 16 megapixel non è niente male, ripeto, è prodotta da Sony, ma riesce a fare delle buone foto, in genere su telefono di fascia medio-bassa cinesi, devo dire che ho visto delle foto molto molto scarse, invece in questo caso no, le foto sono discrete, ripeto, non abbiamo una... ok, questa è uscita un po' sfocata, ma colpa mia. La messa a fuoco magari non è sempre precisa, vedete, questa è venuta bene. In notturna però poi le foto hanno una messa a fuoco che non sembra perfetta, vedete, questa è venuta male, questa male, questa bene. Quindi una messa a fuoco non sempre facile con il dispositivo e quando siamo in notturna. Di giorno invece sicuramente la messa a fuoco è molto più rapida e sicuramente più facile anche avere una buona messa a fuoco, le foto ripeto sono discrete, darei un 7 a questo smartphone per quanto riguarda la qualità fotografica, direi, devo dire... ma devo dire che mi ha un po' sorpresa la qualità fotografica perché mi aspettavo una, come dire, una fotocamera sicuramente peggiore, però una 16 megapixel di Sony sicuramente riesce a garantire una buona qualità generale. Questo è il video. FileOS.it, siamo qui con lo smartphone di iNew, vediamo come si comporta, oggi giornata sicuramente difficile per lui, visto che c'è molto molto sole, proviamo anche un po' di cambiamenti luminosi e chiudiamo come sempre su qualcosa di più ravvicinato, dato che ci sono anche le foglie, chiudiamo sia su questo che sulle foglie. Bene, insomma, questo è quanto riguarda il comparto fotografico. Allora direi di entrare un attimino in galleria, andiamo un po' in test perché in questo modo possiamo andare a parlare del display di questo telefono. Vi ricordo, un display da 5 pollici HD. Allora, partiamo innanzitutto col dire che il telefono si vede discretamente bene sotto la luce del sole, non ci sono grossi problemi da questo punto di vista. Inoltre, gamma cromatica, riposizione della gamma cromatica, beh, è buona ma forse i colori sono un po' forse poco fedeli alla realtà, ecco, mettiamolo un po' troppo vivi, un po' troppo sparati, ecco, mettiamola così. Però comunque, nonostante i colori si vedono sgargianti. Devo dire che la luminosità del telefono è buona, si vede discretamente bene sotto il sole, i neri mi hanno convinto un po' di meno, forse sono un po' troppo tendenti al grigio, ma non come altri telefoni, quindi detto sommato sono sufficienti. Per quanto riguarda invece gli angoli di visione, beh, giudicate voi, a me sono sembrati, direi, più che positivi. Ci sono pochi cambiamenti di colore, come vado a cambiare l'angolo di visuale. Andando invece a vederci un video in full HD viene tranquillamente riprodotto e direi anche abbastanza bene. Beh, giudicate voi, il passaggio è rapido tra un pezzo e l'altro del video, ve lo faccio vedere qualche secondo. Noi vi ho fatto vedere un'altra parte riguardante il software, ci andiamo subito. Noi vi ho fatto vedere nel browser di internet, vediamo se ho lasciato qualcosa in sospeso. È presente anche Chrome, ma noi adesso andremo ad utilizzare invece il browser stock. No, non lascerò niente, lascerò mobileOS.it aperto, quindi direi tutto bene. Ora mi è partito ad aggiornare, mannaggia. Vabbè, però vediamo un po' se questo crea rallentamenti al browser. Devo dire che vado poi a stopparlo. Come potete vedere, mi sembra che sia tutto ok dal punto di vista del browser. Perlomeno sul nostro sito non ci sono grossi problemi. Nel frattempo chi apre l'articolo, andiamo un attimino su Repubblica. C'è qualche problemino solo di comunicazione con il Wi-Fi perché, ripeto, come ho già detto prima, l'antenna non è non è così potente magari come altri dispositivi. Quindi ora si è aperto il nostro sito, però vedete pagina web non disponibile nonostante sia agganciato. Quindi c'è qualche, come ho già appunto anticipato, problemino semplicemente di distanza. Andiamo un attimino a bloccare questi aggiornamenti. Magari stanno, vuol dire, prendendo anche loro un po' di rete. Benissimo. Ah no, che non si era bloccato. Pensate si fosse bloccato. Invece sta ancora caricando. Vabbè, insomma, c'è qualche problemino di rete. Comunque, come avete visto, il dispositivo ha aperto subito il mio sito, poi ho avuto qualche problema di rete, probabilmente legato anche al fatto che sta, vedete, scaricando nel frattempo questi aggiornamenti. Purtroppo, vedete, non mi fa entrare sul Play Store. Non posso nemmeno bloccarli. Vediamo un po' se poi riesco a entrare qui. Insomma, non mi fa fare niente. Vabbè, comunque, fidatevi. Il browser funziona bene, non ha particolari problemi e anche discretamente fluido. Quindi devo dire che nessun problema da questo punto di vista. Ecco. Forse con Chrome magari si va leggermente meglio, ma devo dire che anche il browser stock non mi ha dato particolari problemi. Ecco, ora ci sono ancora problemi di rete. Benissimo. Vediamo se riusciamo a giocare a GT RISIG. Allora, adesso non vi preoccupate del Wi-Fi. Ecco, volevo dire anche questo. In realtà la ricezione è un problema di ricezione, non di stabilità e non di comunicazione. Siamo un po' lontani rispetto a dove ho il router io, ma in realtà tutti i dispositivi in genere hanno più di due tacche, tra le due e tre tacche e quindi non ho la necessità di spostarmi. In questo caso, dato che faccio sempre qui le recensioni, questo dispositivo ha qualche come dire, qualche problemino in ricezione perché appunto va a causa della distanza. Per il resto, però nessun problema particolare e direi che andrà a giocare. Siamo partiti. Qualche piccola decisione in partenza, ma poi il telefono ha ripreso una certa fluidità. ma insomma direi che si può giocare senza problemi, però qualche ritardino, qualche puntamento, qualche scatto ogni tanto c'è. Ecco, però non sono problemi gravi che ci impediscono la giocabilità, ma vi ripeto, qualche problemino c'è proprio sulla fluidità. e questo ci sono a prescindere dal fatto che ora sta facendo degli aggiornamenti perché mi era capitato di averli anche quando appunto ho testato la prima volta il telefono e non c'era alcun aggiornamento in download. Beh, direi quindi che è tutto per questa recensione. Un dispositivo interessante è questo di iNew, è un prodotto che comunque è vero che garantisce il solito processore di Miatec, l'MTK6582 per i dual sim, però in questo caso sono 2GB di RAM e questo è davvero un passo avanti. Inoltre abbiamo sempre la possibilità di spandere la memoria che però interna è già di 16GB e ve la faccio vedere perché non vi ho fatto vedere questo. Memoria, eccola qui, sono in realtà 13.31GB disponibili, è possibile anche mettere una microSD e settarla come memoria principale. C'è il programma a sezione di spegnimento, c'è anche le info sul telefono che ci hanno la versione 4.4.2 di Android. Urge però un aggiornamento su questo dispositivo, spero arrivi al più presto. Niente, per il resto il prezzo siamo intorno ai 160-170€, forse si poteva garantire un prezzo leggermente inferiore ma con le offerte che vi forniremo poi probabilmente riuscirete anche a trovarla a qualcosina in meno. Direi quindi che è tutto per questa recensione, ci vediamo alla prossima, cari amici di mobileOS.it. Ciao!